CROLO DELLA PALAZZINA Era deceduto sul colpo il marito, una fuga di gas alla base del disastro. Tragedia della strada nel centro di Salerno è successo nella notte a Corso Garibaldi. Luigi D'Urso, imprenditore 28enne, è stato travolto da un'auto mentre era in sella a suo scooter. Indagini per chiarire le responsabilità. La vittima aveva tre figli e gestiva un locale in provincia. Contagini nelle scuole, ora è allerta in Campania. Il governatore De Luca mette in guardia i cittadini e lancia l'ennesimo appello alla vaccinazione. E il professore Paolo Ascierto, premiato a Salerno, ribadisce l'importanza della terza dose. È determinante per frenare il contagio. San Gregorio riparte, serve un piano anti-caos. A Napoli, inaugurata la 150esima fiera di Natale nella Via dei Pastori, a tagliare il nastro l'assessore alle attività produttive Teresa Armato. Grandi aspettative, ma il Covid preoccupa subito un piano anti-assembramento. Boom di nuove accessi al centro della diocesi di Benevento. Il dossier sulla povertà per il 2020 evidenzia una notevole crescita delle persone che hanno bisogno di aiuto. L'arcivescovo accrocca, c'è il rischio di tensioni sociali. Dal primo dicembre, per tre settimane, il sindaco Festa fermerà le auto inquinanti per contrastare l'emergenza smog. Perplessi i commercianti, già paghiamo la crisi da Covid, ma i cittadini sono favorevoli. Buongiorno dal TG 696. In apertura alla cronaca si aggrava il bilancio dell'esplosione avvenuta a San Felice a Cancello. Ieri nella notte è morta anche la signora Giuseppina, estratta viva dalle macerie, morto sul corpo invece il marito. Sentiamo il senzio. Non ce l'ha fatta la signora Maria Sammaciccio, la 74enne estratta ieri viva ma gravemente ferita dalle macerie. Il suo cuore ha smesso di battere per sempre la scorsa notte nel reparto di rianimazione del Cardarelli di Napoli, dove era stata trasferita dopo che le sue condizioni erano state giudicate gravi all'ospedale di Caserta. Si aggrava così, purtroppo, il bilancio del crollo dell'abitazione di Via Napoli a Cancello Scallo di San Felice a Cancello. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco erano riusciti ad individuare, raggiungere e recuperare il corpo senza vita del marito, Mario Sgambato. Marito e moglie hanno trovato la morte tra le mura della loro casa, un'abitazione di due piani in tufo e cemento che si è sgretolata, sotto la pressione di un'esplosione sorda, devastante e probabilmente provocata da una fuga di gas a metano. La signora Maria si trovava in cucina e non è escluso che ad innescare lo scoppio possa essere stato proprio l'accensione di un fornello o di una lampadina. Mario era invece ancora in camera da letto. Mancavano pochi minuti alle sette quando l'intero quartiere ha udito il botto, poi una nuvola di polvere e le urla dei vicini che si sono ritrovati, con porte e finestre divelti al pari dei benzeli dei mobili crollati. Questa mattina quello stesso quartiere si è trovato a fare i conti con la tristissima notizia della morte della signora Maria, una tragedia sulla quale sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno fare luce su cosa e perché abbia provocato lo scoppio. Le salme di Maria e Mario sono ora a disposizione della magistratura. Nelle prossime ore il conferimento in carico per l'autopsia. Un tragico incidente si è verificato nella notte in pieno centro a Salerno. Luigi D'Urso, imprenditore 28enne, è stato sbalzato da un'auto mentre era in sella del suo scooter. Il giovane aveva tre figli e gestiva un locale nei pressi della provincia salernitana. Sentiamo. Aveva da poco finito di lavorare Luigi D'Urso, il 28enne salernitano, che la scorsa notte ha perso la vita in un incidente avvenuto tra le strade del centro di Salerno. L'impatto mortale si è verificato intorno alle due, all'incrocio tra Corso Garibaldi e Via De Felice. Il giovane, in sella ad uno scooter, proveniva dal lungomare. Si stava immettendo sulla strada principale, quando è stato colpito in pieno da una Ford Fiesta, che procedeva in direzione via Roma. L'impatto è stato violentissimo. Il 28enne è stato sbalzato dallo scooter ed ha percorso diversi metri sull'asfalto, abbattendo anche un cartellone pubblicitario. Nonostante indossasse il casco, per lui non c'è stato nulla da fare. I lesi treventenni che viaggiavano all'interno dell'auto. Per loro sono stati disposti test tossicologici e alcolemici. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora, in modo da consentire agli agenti della questura di Salerno di effettuare tutti i rilievi. La vittima è residente in zona via Irno, gestivo locale nei pressi della provincia, ed era padre di tre figli. Una tragedia emmane che ha spinto l'Associazione Strade Sicure a chiedere interventi concreti per aumentare la sicurezza delle strade. Se non vogliamo che accada più questo, dobbiamo prendere provvedimenti, chiediamo alle istituzioni un tavolo tecnico. Su Salerno questi semafri purtroppo la legge prevede che di notte sono accesi con luce gialla. Non va bene, perché questo diamo una libertà agli utenti della strada a non rispettare le regole. Il Covid contagio è risalita in Campania e preoccupano soprattutto le scuole. Il governatore De Luca mette in guardia i cittadini e lancia l'ennesimo appello alla vaccinazione. Il professore Ascierto, premiato a Salerno, ribadisce invece l'importanza della terza dose. Sale la curva dei contagi in Campania e il governatore De Luca mette subito in guardia i cittadini per la massima attenzione. Occhi puntati soprattutto alle scuole. Abbiamo solo nell'Asla Napoli 2 per quanto riguarda le scuole 30 focolai per un numero complessivo di ragazzi positivi di 129 unità. De Luca non perde occasione ovviamente a lanciare frecciatine a chi oggi ancora non vuole vaccinarsi. Guardate quando si parla un alfabeto che non è uguale, si perde tempo. È come se noi parlassimo la lingua italiana e loro parlano in afgano. Andiamo avanti e non perdiamo tempo. Il nostro obiettivo oggi è di tutelare quanto più possibile la salute dei nostri concittadini e abbiamo anche l'obiettivo di non far chiudere la nostra regione e l'Italia. Anche il dottore Paolo Ascierto, premiato a Salerno, lancia l'ennesimo appello alla vaccinazione. Il vaccino ha una durata d'azione limitata nel tempo, ma questo lo sapevamo. La vaccinazione non dà un'immunità perenne come avviene per altre malattie infettive e quindi sappiamo che ci sarà necessità, anche per il futuro, di fare dei richiami. La terza dose è sostanzialmente un richiamo, guardando a quello che è successo, ripeto, in Israele. È lo strumento per cui in questo momento possiamo arginare. D'altra parte però c'è da dire un'altra cosa. Vaccinazione è importante, ma dobbiamo considerare che in questo momento noi dobbiamo convivere col virus. E preoccupa dunque la quarta ondata del Covid. Il Governo pensa all'obbligo vaccinale per determinate categorie professionali. I cittadini si dicono favorivoli. Sentiamo. Fanno già discutere le parole del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, per quella che per il momento è solo un'ipotesi al vaglio del Governo per sconfiggere la pandemia. considerare forme di obbligo vaccinale, in particolare per determinate categorie professionali, come forze dell'ordine, dipendenti della pubblica amministrazione e insegnanti, a contatto con il pubblico. Ma sentiamo, cosa ne pensa la gente? È giusto. Perché? È giusto. Perché per colpa degli altri siamo qua a farci la terza dose, quindi è giusto. Anzi, io lo estenderei a tutti, lo obbligo a tutti, come in Austria. Sì, assolutamente, perché sono a contatto con la gente, devono stare tranquilli loro per primi e anche gli altri, le persone con le quali vengono in contatto. Io sono a favore. Dobbiamo sempre salvaguardarci, secondo me, quindi estenderlo soprattutto a categorie, non so, per quanto riguarda anche i medici, che si prendono sempre cura delle persone, o soprattutto poi le scuole, gli insegnanti, che hanno contatti con i bambini e i ragazzi. È importante, secondo me, quindi sì. No. Perché? Perché secondo me è un vaccino che non ha tutta l'efficacia e non è manco testato in fondo. Fino al 2023 penso che non posso farlo. Io penso che sia giusto, anzi, dirò di più, debba essere obbligatorio per tutti, perché il vaccino è l'unica arma che possiamo ottenere per fermare questa pandemia. A Napoli inaugurata la 150esima fiera di Natale di San Gregorio Armeno a tagliare il nastro, l'assessore alle attività produttive Teresa Armato. Grandi aspettative proprio tra i commercianti. Focchi d'artificio e tante aspettative all'inaugurazione della 150esima fiera di Natale di San Gregorio Armeno. Ieri pomeriggio, per il taglio del nastro nella storica via del presepe napoletano, c'erano l'assessore alle attività produttive del comune Teresa Armato, il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, la presidente della Municipalità 4 Maria Caniglia e il parroco di San Lorenzo Maggiore Padre Domenico Sportiello. Intanto arrivano già i primi flussi turistici che fanno ben sperare per la ripresa. Finalmente grazie all'amministrazione siamo riusciti quest'anno dopo la pandemia a riaprire San Gregorio Armeno, a salvare un'antica tradizione e non far fare San Gregorio Armeno alla stessa fine che ha fatto le ceramiche di Capodimonte. Quindi per noi è una grande festa, ci siamo riusciti. Questo museo all'aria aperta è il segno tangibile di una Napoli, di un'associazione, di un quartiere che ha voglia assolutamente di ricominciare. Anche il turismo ha bisogno a Napoli di certezze, di risposte. Cerchiamo di lavorare affinché Napoli possa essere sempre più una città appetibile per tanti turisti, una città sicura. Ma l'ombra del Covid preoccupa e non poco gli addetti ai lavori. È necessario un piano anti-assembramenti e sono almeno due i nodi che verranno sciolti nei prossimi giorni intorno ai decumani. L'ordinanza di contingentamento degli accessi pedonali su cui al lavoro il Comune e la questione dei bandi per le fiere di Natale non ancora pubblicati dal momento che i consigli municipali, cui spetta l'approvazione delle gare, non sono stati costituiti dopo le elezioni. Nuova bufera giudiziaria sul Comune di Salerno. Avviso di conclusione delle indagini per cinque persone, tra cui l'ex assessore candidato più votato alle ultime elezioni, Dario Loffredo, nel mirino della Procura, l'affidamento dei mercatini di Natale del 2016. Sentiamo il servizio. La Procura sede il Comune di Salerno. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di Dario Loffredo, ex assessore al commercio e candidato più votato alle ultime elezioni. Oltre l'esponente politico risultano indagati la guida degli ambulanti Aniello Petrofesa, gli imprenditori Francesco Ferrara e Michele Fiore e l'ex dirigente del Comune Alberto Di Lorenzo. Turbativa d'asta, questa l'ipotesi di reato per gli indagati che ora rischiano il processo. Sotto la lente di ingrandimento della Procura, l'affidamento della gara per i mercatini di Natale del 2016. Evento collegato a Lucid Artista che, secondo i PM, sarebbe stato indirizzato per favorire Buongiorno Italia. All'Offredo in particolare verrebbe contestata una telefonata intercettata dagli investigatori, come spiega a 696 TV l'avvocato Giovanni Annunziata. Ci viene contestato in questo atto che ci è stato notificato ieri una condotta risalente al 2016 in una telefonata intercettata nella quale il dottor D'Offredo avrebbe dato, avrebbe in qualche modo condizionato il buon esito di un'assegnazione dei mercatini di Natale, dell'assegnazione dei lotti del mercatino di Natale. Per il legale di fiducia, L'Offredo però conta di chiarire la propria posizione in tempi rapidi. L'Offredo è assolutamente tranquillo perché come si può immaginare, voglio dire io che immagino di avere di fronte una persona che è perfettamente consapevole di essere una persona che non ha commesso nessuna irregolarità e quindi probabilmente il tutto si potrà concludere anche con un'attività difensiva mirata che potrebbe sicuramente far auspicare, almeno il giudizio prognostico positivo, far pensare a un epilogo positivo di questa vicenda, anche in tempi abbastanza brevi. Boom di nuovi accessi al centro Caritas di Benevento. Il dossier sulla povertà per il 2020 evidenzia una forte crescita delle persone che hanno bisogno di aiuto e il Covid ha acuito ogni difficoltà. Sentiamo il servizio. Cresce la povertà nell'anno della pandemia, Benevento. Il 2020 è stato particolarmente difficile. Come mette nero su bianco il dossier povertà 2021 sull'esclusione sociale, e le povertà accanto presentato dalla Caritas di Benevento. C'è stato un boom di presenze. Abbiamo avuto 847 nuovi accessi ed è un numero abnorme per noi. In dieci anni dall'attivazione del centro ascolto diocesano non avevamo mai conosciuto numeri così consistenti. Guardando al dato totale, la Caritas ha fatto fronte al 75% in più di richieste di aiuto. La pandemia si è abbattuta con forza, soprattutto sulle famiglie. Abbiamo avuto anche l'accesso di cassi integrati. È una percentuale, la loro, molto consistente, del 6,5%. Igualmente il fenomeno del lavoro nero. Dato importante anche quello che riguarda i pensionati. Molto spesso queste pensioni poi sono state, sono andate anche alle famiglie, ai propri figli, ai nipoti che magari si sono ritrovati a causa della pandemia senza lavoro. Numeri prevedibili, commenta l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, che però non nascondi la preoccupazione. La realtà creata dal Covid ha aumentato le tensioni a livello esponenziale, familiare, personale. La situazione sociale che rischia di mettere tante famiglie, diciamo che anche chi era benestanti, chi era a livello medio, si trova oggi borderline. Questo non può non preoccupare. Ad Avellino, commercianti sul piede di guerra per il blocco delle auto inquinanti che scatterà dal primo dicembre. Non bastava il Covid, questo sarà il colpo di grazia per il settore. Sentiamo. Lo stop alle auto nel periodo dello shopping natalizio sarà il colpo di grazia per il commercio avellinese. La salute pubblica va tutelata tanto quanto il lavoro. Chiediamo di essere ascoltati dal prefetto. I commercianti sono sul piede di guerra dopo la notizia che dal primo dicembre, per tre settimane, il sindaco Festa fermerà le auto inquinanti. La politica ha tutto l'anno di tempo per poter porre delle soluzioni e alla fine ci troviamo sempre durante il periodo natalizio a porre queste soluzioni di tampone dove ha discapito non solo dei commercianti ma anche rispetto dei cittadini. Speriamo che il prefetto ci convochi e possiamo almeno discutere per quanto riguarda almeno una riduzione degli orari. Sì, però bisogna farla, cercheremo di limitare i danni. Direi che il tempismo è perfetto a dicembre dove uno spera appunto nell'area natalizia, nell'atmosfera natalizia, parlano di un villaggio natalizio e poi che fanno? Bloccano le auto e quindi? Già il Covid bisogna sperare che l'andamento sia migliore rispetto allo scorso anno però se il Covid va meglio poi le istituzioni cercano di danneggiarci in altro modo. Più morbidi i cittadini per i quali comunque qualche beneficio arriverà dal blocco della circolazione anche se da solo non basterà. Il problema dello smog non è legato esclusivamente alle autovetture ma è legato anche a altre emissioni dell'atmosfera che noto nel corso degli anni non sono mai calate. Un pochino servirà, non camminano le auto quindi l'aria è più pulita, è meno inguinata. I commercianti storcono il naso perché giustamente hanno ragione è un po' di pazienza, sono 20 giorni. Ad escava le sue vittime tramite i social convincendole a farsi inviare foto e video a sfondo pornografico poi le ricattava chiedendo soldi per non divulgarli. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un uomo residente a Scafati. Pesanti le accuse che gli vengono contestate è pedopornografia minorile, estorsione e revenge porn. L'uomo non si faceva scrupoli. Tra le sue vittime infatti figura una minorenne e altre persone con fragilità fisiche e cognitive. Le indagini coordinate dalla Procura Partenopea hanno portato all'arresto dell'uomo residente nel comune salernitano. Ed è deceduta questa mattina nell'unità operativa Covid di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Moscati una paziente di 90 anni di Atripalda ricoverata dal 15 novembre scorso un'altra vittima del Covid in poche ore nell'azienda di Avellino dove ieri è deceduto invece un 71enne di Mercogliano. Grazie alla campagna di vaccinazione che procede spedita ormai da quasi un anno nel Sannio i nuovi contagi sono inferiori rispetto alla media regionale anche se a preoccupare restano i casi nelle scuole. Sentiamo. Nel Sannio ieri è stata raggiunta quota 10.000 somministrazioni per le terzi dosi contro il Covid il cosiddetto richiamo booster un dato positivo che caratterizza la provincia di Benevento sin dall'inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus grazie al quale i contagi ci sono ma restano inferiori rispetto alle altre province. Al San Pio resta alta la guardia sui ricoverati sono in tutto 23 8 dei quali in terapia subintensiva le condizioni di alcuni di loro sono definite severe per questo si spera che grazie alle terapie possano migliorare. Sono 31 invece nuovi positivi emersi dalle analisi dei tamponi ASL stabili dati nei plessi scolastici colpiti dal Covid anche in città insomma la situazione sembra essere sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia e vaccinarsi. Invito mio anche a tutti a vaccinarsi la terza dose perché tutti quelli che sono affetti da contagio sono tutte quante persone che hanno fatto la seconda dose di vaccino. Lui io ho convocato il direttore già dell'ASL e dell'ospedale per fare un po' una ricognizione della situazione a città di Benevetto. Ognuno di noi aveva avuto un allentamento pure io, di fare la vita psicologicamente quindi bisogna tutti quanti un po' stringersi con se stessi avere rispetto degli altri. Ed ora le elezioni provinciali ad Avellino il centrosinistra cerca l'intesa Riformisti e 5 Stelle chiamano il Partito Democratico necessario a un accordo programmatico prima che sui nomi. Sentiamo. Dopo il primo vero confronto politico convocato dal commissario provinciale del Partito Democratico Michele Bordo aperto a tutte le forze del centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle il dibattito sulle elezioni provinciali entra nel vivo. Tutti si sono ritrovati in linea di massima sul nome avanzato dal PD per la presidenza di Palazzo Caracciolo quello del sindaco di Montella Rino Buonopane ma le forze di centrosinistra rivendicano il pieno coinvolgimento nella costruzione della proposta di rappresentanza per il Consiglio Provinciale e si lavora a una lista di bandiera. Unico distinguo è la necessità di tenere fuori Italia Viva da questo percorso come spiega Amaglio Santoro. Diciamo che si può costruire un percorso che in un certo senso abbiamo un po' la voglia di rivendicare nel senso che con alcuni amministratori del campo progressista avevamo lanciato un appello nelle scorse settimane per provare a riportare la politica a Palazzo Caracciolo dove alberga un gruppo sostanzialmente trasformistico che pensava e pensa di fare di quel luogo una cosa propria. Si può ricostruire il campo di un centrosinistra largo devo dare atto al commissario Bordo di aver provato a ricomporre una sintesi nel cosiddetto mondo del PD sappiamo cos'è il PD in questa provincia una specie di terra di nessuno c'è bisogno comunque di anche precisare il confine della coalizione io lo dico con grande franchezza Italia Viva in questa provincia è diventata una sorta di fattore di inquinamento anche perché lì dentro si rifugia tutto il centrodestra incapace anche di stare in campo e di darsi una sua veste organizzativa. Le imprese sempre più vicine al territorio per vincere la sfida del piano di ripresa e resilienza questo è il messaggio di Confindustria Salerno che ha inaugurato il nuovo presidio nel Vallo di Diano. Rilanciare la sfida del PNRR con un patto capace di coinvolgere tutti gli attori istituzionali nella sfida per lo sviluppo è uno dei messaggi arrivati da Teggiano in occasione dell'inaugurazione del nuovo presidio di Confindustria Salerno non solo la costa, anche le aree interne possono e devono cogliere le opportunità messe a disposizione dall'Europa il monito del presidente degli imprenditori salernitani. Con questa sede siamo molto più vicini al territorio e quindi potremo far sentire anche di più e meglio la nostra presenza oltre a dare l'opportunità agli imprenditori locali di avere una loro sede su cui espletare anche le loro attività associative. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è sicuramente un'opportunità sono tutte cose che possono portare nel tempo, nel medio periodo a uno sviluppo ulteriore del territorio del territorio salernitano e quindi dobbiamo essere anche pronti noi come imprenditori a saper cogliere queste opportunità. Il presidio di Confindustria del Vallo di Viano guidato dalla coordinatrice Anna Maria Curcio sarà ospitato nel complesso della Pietà messo a disposizione dal comune di Teggiano. Siamo contenti noi come amministrazione siamo presenti che ci hanno fatto la richiesta l'abbiamo accolta subito con tanta gioia oggi inauguriamo questa sede e che speriamo che dia i buoni frutti a tutto il territorio e anche alle zone limitrofe. Savignano Irpino entra a far parte del circuito amico del turismo itinerante ufficializzata questa mattina l'adesione del piccolo borgo tra i più belli d'Italia che mira alla valorizzazione del territorio. Savignano Irpino tra i borghi più belli d'Italia nelle aree interne al confine con la vicina Puglia entra a far parte di un nuovo importante circuito comune amico itinerante grazie all'area camper che vedete alle mie spalle e alle tante bellezze di questo meraviglioso territorio. Questo è un turismo particolare un turismo così definito itinerante ed è un turismo molto difficile da intercettare. Noi ci auguriamo che questa adesione oltre a quella già che ha avuto il comune nel 2018 come riconoscimento di bandiera gialla questo ulteriore riconoscimento come comune amico del turismo itinerante possa creare un'ulteriore rete. Una grande opportunità per questo piccolo borgo soprattutto in un momento così importante di ripartenza. Noi che giriamo spesso e giriamo quasi sempre nei piccoli borghi perché sono quelli che ci danno maggiore soddisfazione nel senso migliore accoglienza perché la grande città generalmente è dovuta a caos confusione traffico nei piccoli borghi troviamo quello che vogliamo cioè la calma la tranquillità l'aria pulita innanzitutto e poi i prodotti locali che sono indubbiamente alla ricchezza dell'Italia. Il camperista ha la possibilità di arrivare in questo borgo visitarlo diciamo attraversare le viuzze scattare delle foto entrare alle botteghe entrare in contatto con i cittadini senza avere la fretta di dover rientrare la sera perché pur se non ci sono strutture alberghiere ha la sua casa dietro. Savignano avrà nell'ultimo periodo da poco tempo darà la possibilità ai camperisti di tornarci e poi visitarlo e sarà comunque spero per questa bellissima località anche grazie al sindaco che ci ha dato questa possibilità ci sarà veramente un'esplosione di turismo. ed era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito vi lascio al Tg Sport il Tg Sport Grazie a tutti.